Inizialmente il palazzo si sviluppava su un unico piano. Fu l'antico proprietario Filippo Bacile a soprelevarlo di un ulteriore piano, sulla cui facciata frontale ancora oggi è possibile ammirare otto eleganti arcate. Ha un imponente portale settecentesco, con lo stemma della famiglia e da caratteri distintivi propri del tardo barocco napoletano. È costituito all'interno da stanze ampie un tempo sontuosamente arredate, in cui era allestito un museo privato con dipinti d'autore, materiali archeologici ed esemplari di fauna marina. Inizialmente il palazzo si sviluppava su unico piano. Inizialmente il palazzo si sviluppava su unico piano.